Il primo è un sogno amico, sei un fratello. Il papà mi ha promesso che mi comprava l'overboard. Sì, mi ha promesso regolato, scrivi, dai. Grazie a tutti, eh! E poi non dicami che tu non ti pensa. Tu mi devi capire se sta un po' severo, eh? Dai, che sarà andato su. Facciamo a fare le mie mani. Sai cosa, Santi? Qui comando io. Ciao, papà. Tu non mi dovevi mancare di rispetto. Ciao, papà. Grazie a tutti